Una Sanremo luminosa con sole e vento su 12 nodi da Levante ha accolto la flotta di autunno in regata che sabato e domenica mattina si è ritrovata allo Yacht Club Sanremo per la prima e seconda prova del campionato e seconda tappa del 29esimo West Liguria. Il protagonista assoluta della due giorni vediera è stata Karim Perru con First Fan che si è piazzata prima sia in ORCA sia in IRC portando a termine una bellissima regata. Per la Perru ovviamente dominio anche nella classifica overall. Alle spalle della dominatrice Nizzarda si installa Vittorio Urbinati con Sea Wonder mentre Roberto Tamburelli con Forrest Gump sale sul terzo gradino del podio. Nella classe ORCB invece Giuseppe Magliocchetti con Emanuela mantiene la vetta grazie ad un primo ed un secondo posto nelle due prove del fine settimana. Il pingone di mare di Federico Stoppani è secondo mentre Evan Can't Wait di Albino Picco chiude il podio. Nella classe IRC come già anticipato il primo posto è di First Fan, il secondo di Forrest Gump e il terzo per il pingone di mare. La graduatoria generale della Racing Club vede in testa Blueswell di Pier Paolo Lerda dello Yacht Club Sant'Ampelio, secondo posto per Akira di Guido Rispoli e terzo posto per Brunilde di Bruno Inzitari dello Yacht Club Aregai. Gulliver di Michele Orlando dello Yacht Club Sanremo invece con due primi posti mantiene il comando nella Racing Club 2. Sita di Trino Barbabò dello Yacht Club Aregai è subito dietro e Mabea di Alberto Tombolini dello Yacht Club Sanremo è terza. Nella classe Gran Crociera infine Wally B di Gianni Berretta tiene le redini della classifica con Fotiting di Emilio Milanino alle spalle e Alpa Sida di Giancarlo Beccaria ad inseguire. Il prossimo spettacolare appuntamento con autunno in regata, campionato valido per il West Liguria, è previsto per l'1 e 2 dicembre.